Un poker riuscito? No, no, poker no perché abbiamo pareggiato e più che pareggiato ci siamo pareggiati da soli perché premetto sempre prima di un'intervista, devo rivedere l'intervisione ma dalla panchina mi è sembrata una vittoria strameritata ci sono stati momenti di sofferenza ovviamente, come è giusto che sia abbiamo giocato contro una grande squadra in alcuni momenti ovviamente hanno incominciato a buttare qualche palla lunga loro hanno giocatori fisici davanti ma noi oggi abbiamo dimostrato che sappiamo anche difendere Non avete speculato sul risultato, questo non rientra nel vostro atteggiamento? No, no, anzi io credo che, non so se l'aspettavano in generale se ve l'aspettavate ma noi abbiamo fatto quello che avevamo preparato cioè quello di andare in avanti e cercare il gol perché quello sappiamo fare, poi la palla è più lontana e meglio è dalla nostra area più andiamo in aggressione più recuperiamo palloni e più abbiamo possibilità di fare male cioè quello che abbiamo fatto dispiace perché probabilmente ci siamo fatti due gol da soli però non c'è problema perché nel calcio, come ho detto sempre vince chi sbaglia di meno abbiamo sbagliato in qualche circostanza bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e cercare di evitare quei piccoli errori che potrebbero condannare C'era un altro campione al mondo in tribuna, Fabio Grosso ha detto Massimo porterà il Pescara in Serie A Massimo gli dice ok E ci proviamo, è il nostro obiettivo è il mio obiettivo da quando ho detto sì al presidente ho cercato di trasmettere questo entusiasmo anche allo sportatore che ha risposto alla grande ma poi alla fine in merito di tutto non è finta umiltà ma è la verità perché un allenatore può, quel poco che può portare in pochi giorni lo deve sì sapere trasmettere ai giocatori ma poi ci vogliono i giocatori che credono fortemente in quello che ti dice l'allenatore loro lo stanno facendo la grandissima e complimenti a loro Pescara sta impazzendo di gioia impazzerebbe qualunque piazza andarsi a giocare una finale in Serie B poi venuta come è venuta io penso che l'abbiamo meritata la grandissima adesso ci aspettiamo uno stadio pieno ci aspettiamo un entusiasmo grande allenamenti pieni più ce n'è chi ne metta perché c'è bisogno di tutto e di tutti